Il Presidente Chiamparino ha presentato le linee programmatiche della sua azione di governo, un'esposizione puntuale che è andata a toccare molti punti, a partire dalla centralità del lavoro e dall'importanza che dovrà rivestire anche il tema della legalità, per poi passare le azioni dei trasporti, della sanità, della coesione sociale e dell'innovazione. Sicuramente l'azione di questi cinque anni sarà attenta ai profondi. Nel mio intervento ho voluto sottolineare come sia importante per tutti noi mettere al centro il lavoro, senza di esso, ce l'ha ricordato anche Napolitano, non c'è futuro per l'Italia e per i nostri cittadini. Ho poi voluto fare un passaggio importante sulla questione della legalità e della lotta dalle mafie. Essa richiede, lo abbiamo imparato in questi anni, un'azione complessiva, un progetto politico importante, ma soprattutto uno studio, uno studio che vada in profondità, dalle quale possano scatturire delle politiche specifiche di prevenzione e di contrasto. Faremo la nostra parte e la faremo qui in fondo.